Macchina del fango la chiama, si chiede, quale sia il reato, se credere che qualcosa possa cambiare. Si interroga se la sua attività in questi mesi, come il ridimensionamento dei consigli di amministrazione di AMIU e AMET, possa aver dato fastidio a qualcuno. No alla strumentalizzazione della sua candidatura, dice la commissaria straordinaria del comune di Trani, Anna Rita Iaculli, in lizza per un posto alle primarie in una corsa a 5 all'interno di un'associazione non politica alle prossime elezioni comunali di Matera. Spiega di essere comunque un servitore dello Stato, di aver dato per il momento solo una disponibilità per amore della terra in cui è nata, nessuna incompatibilità al massimo dopo nell'eventualità di una campagna elettorale. Voglio continuare a lavorare per Trani, dando quella garanzia di imparzialità e di rigore che sono le caratteristiche della mia attività professionale. Quindi a Trani sono stati adottati dei provvedimenti, non possono essere letti in chiave strumentale, assolutamente no. Può essere imparziale una persona che si candida per delle elezioni? Guardi, l'imparzialità è forse uno dei requisiti per cui sono stata scelta come, diciamo, aspirante candidato sindaco dalla società civile e non già da partiti politici. Può essere opportuno, quantomeno? Non c'è nessuna inopportunità, anche perché tra l'altro si tratta di territori così distanti. Grazie.